E adesso, caro pubblico, abbiamo un ospite importante, abbiamo una bellissima bimba che ci darà prova della sua bravura, la chiamiamo con un grande applauso, l'Elisabetta, che sarà accompagnata dal gruppo Rosecu, eccola che arriva, guardate un po' che meraviglia. Facciamole questo applauso però, pubblico, a voi Elisabetta e il gruppo Rosecu. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.